Giulia Salemi su Francesco Monte, ho trovato lamore. Non mi sembra vero. Francesco Monte e Giulia Salemi fanno davvero sul serio. . Reduci dallesperienza della terza edizione del Grande Fratello Vip, i due ex e fini continuano a viversi la loro storia damore e sui social appaiono sempre più affiatati e innamorati. . La giovane influencer Italo Persiana ha così colto loccasione per confessarsi ai suoi numerosissimi fan, parlando a ruota libera dellamore per lex tronista di Uomini e Donne e dei propositi per il 2019. . Grande Fratello Vip, Giulia Salemi sempre più innamorata di Francesco Monte. La coppia nata nella casa di Cinecittà è composta da Giulia e Francesco non convinceva quasi nessuno. . Se da una parte si vedeva una ragazza molto presa, dallaltra Monte è sempre stato molto freddo e distaccato nei suoi confronti. . Tuttavia, contro ogni aspettativa, la loro storia damore è decollata. . . In risposta ai fan che le hanno chiesto quanto la relazione attuale sia importante, li influencer ha dichiarato. . Ve lo juro con il cuore, perché io lho trovato dopo anni, lamore è ndr, e non mi sembra vero perché è una sensazione meravigliosa. . . Voglio vivermi lamore a pieno e vorrei affrontare il lavoro con più impegno, sacrificio, consapevolezza e maturità, mantenendo il mio animo fanciullesco. . Cercherò di realizzare i miei sogni. . La Salemi ci ha tenuto a lanciare anche una dura frecciata a coloro che lhanno giudicata una ragazza superficiale. . Le persone a volte giudicano superficialmente e scambiano lallegria per stupidità. . Invece è uno stile di vita per affrontare la vita stessa nel modo migliore e superare tutte le avversità. .